La tutela e la sicurezza stradale sono da sempre un punto fondamentale dell'azione quotidiana delle forze dell'ordine. È in questa direzione che la Polizia di Stato, quotidianamente impegnata nelle più importanti arterie stradali extraurbane, con gli strumenti di controllo della velocità, per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti di velocità al fine di prevenire gli incidenti. Gli attuali limiti di velocità da rispettare sono 130 km orari in autostrada, 110 in caso di maltempo, 110 km orari sulle strade extraurbane principali, 90 in caso di condizioni climatiche avverse, mentre il limite è di 90 km orari sulle strade extraurbane secondarie e locali. Nelle città, invece, il limite di percorrenza è di 50 km orari, 70 in alcuni tratti espressamente segnalati. Le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada vanno da un minimo di 42 a 173 euro, in caso di 10 km orari oltre il limite consentito, a un massimo che va da 544 a 2.714 euro di multa, oltre 40 km orari e non oltre 60 km orari, con decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Chiunque superi di oltre 60 km orari i limiti massimi di velocità, infine, è punito con una sanzione pecuniaria compresa fra 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva nell'arco di un biennio, inoltre, è disposta la revoca della patente di guida. Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.